L'Arezzo e Orgoglio Amaranto scendono in campo nella partita più importante, quella che si sta giocando all'ospedale San Donato di Arezzo per fronteggiare l'emergenza Covid-19. La società sostiene e promuove la raccolta fondi per i reparti di terapia intensiva e di malattie infettive dell'ospedale San Donato. Siamo orgogliosi, ha detto il presidente Lacava, di affiancare Orgoglio Amaranto in questa sfida con l'obiettivo di aiutare tutti coloro che sono in prima linea in queste settimane dure e delicate. E sono stati gli stessi giocatori dell'Arezzo, in un video pubblicato sulla pagina Facebook della società, a lanciare questo accorato appello. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti i tifosi e cittadini aretini. Il nostro campionato si gioca a San Donato. La nostra società, insieme al comitato dei tifosi, qualcuno di Amaranto, ha aperto un conto corrente dove tramite un codice IBAN si possono fare delle donazioni per l'ospedale di San Donato di Arezzo. Dove ci saranno i nostri medici, i nostri eroi in questo momento, dove stanno combattendo continuamente contro questo nemico invisibile. Questa è la partita più importante da vincere, non conosce storia, non conosce rivalità, non conosce colori. È una partita molto più importante di quelle che abbiamo sempre fatte in campo. Vi dico che è una battaglia dura, quindi supportiamo chi questa battaglia sta combattendo in prima linea, quindi facciamo delle donazioni. Mi raccomando, un piccolo gesto, una piccola donazione, perché ne abbiamo bisogno. Invito tutti, con il proprio contributo, a farlo per una buona causa. È da un po' di tempo che vivevo qui ad Arezzo e so perfettamente che nei periodi di difficoltà la gente si urisce e combatte tutte insieme per vincere queste battaglie. E vinciamo questa partita tutti insieme. Un abbraccio grande e insieme ne usciremo ancora più forti. Vi dico che il nostro campionato si gioca al San Donato. Doniamo, mi raccomando. Un saluto. Un saluto.